In comunicazione hanno iniziato un po' a giocarci sul fatto che il Black Friday sta passando di moda e noi a questo vogliamo dare sostanza, motivo per cui ti invitiamo al Green Friday, nel weekend del 24 e del 25 novembre, ci ritroviamo nella cornice del centroacque per fare cosa? Un bel aperitivo, stando insieme, dove impari una formula e una scontistica che ti ha riservata per il benessere della persona, dell'individuo e della società e dell'economia proprio perché in questo modo ci riappropriamo anche di quella che è la nostra dimensione e in questa cornice facciamo un bel aperitivo, stiamo insieme e ci ricordiamo anche di quanto è bello essere italiani perché sono gli italiani che creano le moda. Grazie 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 Grazie